Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Candy Craft L'episodio di oggi inizia proprio qua nella stanza degli iscritti perché so già cosa fare Oddio, a dir la verità non è che lo so io cosa fare Però mi è stato consigliato subito subito da uno di voi cosa fare ovvero Nick Craft Blades Che mi ha detto perché non vai in caverna e trovi tantissimi diamanti Quindi ho pensato, è vero in effetti io ho pochi diamanti e soprattutto ho perso tutti i miei livelli Perché come vi ricordate bene quando sono morto avevo all'incirca 40 livelli Se non mi ricordo male ne avevo tipo 39 E 39 livelli sono tanti, li avrei dovuti utilizzare a dir la verità per fare un bel piccone potentissimo Magari un piccone con fortuna o non lo so unbreaking, qualsiasi cosa Eppure mi sarei anche dovuto fare la spada con Fire Aspect, Sharpness e tutto quanto Però ho perso tutto quanto, ho perso tutto quanto per colpa di un creeper schifoso Quindi oggi torneremo in caverna, ci rifaremo di tutto quello che abbiamo perso Ma prima ci prendiamo un altro pochetto di cibo perché ho l'impressione No in realtà ne ho tanto dai c'ho pure 16 No allora questi li mettiamo qua, 31 di pollo dovrebbero bastare Ci prendiamo anche dei blocchi, ho dei blocchi Sì ok ci prendiamo questi perché tanto non servono a niente e a nessuno E andiamo nella mia caverna preferita Ora tutti quanti sapete qual è la mia caverna preferita Se seguite la Candy Craft Se siete nuovi invece benvenuti Benvenuti nel primo episodio che guardate nella Candy Craft Questa è la mia serie vanilla personale Dove ci divertiamo e costruiamo tantissime cose come per esempio la torre dei quattro regni Questa torre è magnifica, è veramente bellissima E tutto quello che ho costruito l'ho costruito tutto quanto da solo Quindi piano piano impariamo a costruire tutto quanto Quella è la casa di Billy Quella live è la piscina di Billy Perché Billy ovviamente è un bambino viziato E quindi ha bisogno anche della sua piscina Quasi quasi ci farei un salto Ma dov'è Viserion? Viserion sei là? Ah ok per fortuna Viserion è là E mamma mia pensavo di averlo perso per un secondo Dicevo io direi di andare quasi quasi in caverna La caverna maledetta da Aerobrine Perché sappiamo bene tutti quanti cosa è successo l'ultima volta Quando abbiamo esplorato questa croce Che probabilmente è stata scavata da Aerobrine È successo che pullulava al 300 Anzi al 3000% di mostri pericolosissimi Ora siamo equipaggiati leggermente meglio Abbiamo tutta quanta l'armatura Abbiamo una spada migliore Abbiamo uno scudo che però non uso Perché a me gli scudi danno fastidio Ma non si sa mai Magari da un momento all'altro lo potrei utilizzare E quindi dobbiamo riesplorare questa caverna Maledetta Sperando di non trovarci tantissimi mostri come l'altra volta Perché l'altra volta Tutta questa esplorazione ci è costata la vita Non è stato per niente piacevole Dove sto andando? Ho sbagliato strada? Mi sa che ho sbagliato Aspettate No 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 Non dovevo andare di qua Dovevo andare Ah devo scendere Ah sì 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 Devo scendere Allora io ricordo che l'ultima volta ragazzi E sto iniziando a parlare un pochettino più piano Perché siamo in caverna E quindi ho paura dei mostri Che potrebbero esserci Attenzione qua ai ragni Ecco vedete che c'era già un creeper là sopra Ma com'è che ne ero sicuro Io che ci dovevo trovare un creeper Un ragno o qualche mostro Pronto a farmi saltare in aria E questo qua poi c'è uno scheletro Vedete questa caverna ragazzi È pericolosissima Potrei morire da un momento all'altro Anche perché qua i mostri sono veramente duri Con l'1.12 Sono tosti 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 I mostri Soprattutto gli scheletri Che fanno più male Quindi l'ultima volta Io ragazzi avevo proibito l'accesso A chiunque in questa caverna Quindi avevo messo infatti la cobblestone E ora possiamo togliere questa cobblestone E tornare Perché abbiamo bisogno di tanti materiali E l'ultima volta qua ragazzi Era pieno zeppo di mostri Non sto scherzando Era veramente pieno 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 fino all'or Ecco Iniziamo male Iniziamo a prendere già fin troppo danno Quindi attenzione Cerchiamo piano piano Con cautela Dobbiamo prendere tutti i materiali Dobbiamo prendere della redstone Dobbiamo prendere del ferro Dei diamanti ovviamente Se li trovassimo E la redstone ci servirà per i livelli Perché ne dà veramente tantissimi Ora io ho un secchiello d'acqua Sì ce l'abbiamo Perfetto Ok con il secchiello d'acqua Ragazzi possiamo iniziare a esplorare Anche le parti con la lava Perché l'ultima volta Eravamo venuti qua Ma non abbiamo esplorato le parti con la lava Perché c'era appunto la lava E non avevamo il secchiello d'acqua Se non mi ricordo male E tu dove pensi di andare Caro il mio creeper Ora che mi avete fregato una volta Non mi faccio fregare di nuovo Ora sei morto Ora muori In modo tale Da poter trovare più diamanti Guardate quanti mostri Ma vi rendete conto? Ma andate via proprio Andatemene Mostri schifosi Allora uccidiamo prima di tutto No 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 Non mi piace qua la situazione Aspettiamo Intrappoliamolo un pochettino così Uccidiamo prima di tutto Il nostro creeper Perché se no questo si fa esplodere Ecco vedete Che avevo detto Che avevo detto Io ce li ho buggati i creeper qua Io ce li ho i creeper Buggati qua nella Candy Craft Ve lo dico io Guardate quanti mostri Nel frattempo siamo a livello 11 Il che significa diamanti ovunque Potremmo trovare diamanti A propulsione Diamanti a volontà Me lo auguro Perché ne abbiamo bisogno Mi vorrei fare anche una bella Corazza in diamante Sapete che figata sarebbe Se mi facessi una bella Corazza in diamante Che per ora sto girando Con l'armatura in iron Che Oddio non è da poveracci eh Per carità è pur sempre Un'armatura in iron Però se potessimo trovare di meglio Sarebbe molto molto meglio Quindi quindi qua L'avevo già visitato Se non mi ricordo male Eh sì E non c'era assolutamente nulla Comunque Ridendo e scherzando Siamo già arrivati al livello 17 Abbiamo iniziato Se non sbagli che eravamo A livello 15 Quindi già siamo a livello 17 Stiamo Stiamo risalendo ragazzi E piano piano Arriveremo anche al livello 40 Zombo Cosa pensi di fare Questo non è posto Per gli zombie stupidi Come te Senza cervello Forza diamantini per me Fate la danza dei diamanti Ragazzi voi qua nei commenti Fate la danza dei diamanti Mi sa che non c'è nessun diamante Qua dietro Dai forza Uno almeno uno No Neanche uno Ok C'è della redson Dietro la redson Ci sono sempre diamanti Quindi sicuramente Ora li troverò Vai 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 No Mi sa di no Mi sa che questa volta Non c'è andata Proprio così tanta bene No La caverna continua ragazzi Possiamo esplorare ancora tantissimo E soprattutto possiamo anche esplorare Là sotto Non appena finiamo il resto della caverna Quindi continuiamo Redson e carbone E là c'è un creeper Signor creeper Cosa pensa di fare in questa bella giornata Lei pensa di poter uccidere l'imperatore Kendall Non esiste Non di nuovo Non di nuovo Un altro Eh ma questa è una trappola allora Avete visto che ne è spuntato un altro subito dopo Ma questa è veramente una trappola Comunque penso che questo episodio durerà un pochetto più del normale Perché mi avete detto in tanti di fare un bel episodio lungo in caverna Ancora Un altro creeper Mi fai prendere per favore i materiali Ma vedete Ma vedete ragazzi che c'è qualcosa di maledetto Dicevo questo episodio Oh diamanti Un altro creeper Allora io basta Quanti ce ne sono scusate Vedete che c'è qualcosa che non va in questa caverna Non è possibile che spuntano creeper su creeper A questa velocità Allora abbiamo trovato gli diamanti Molto bene Quindi uno Due Tre Oh mio dio Quattro Poi quanti ce ne è Cinque E basta Non c'è il sesto Dai dammi il sesto Dammi il sesto Dammi il sesto Mi sa che non c'è il sesto No il sesto non c'è Vabbè non importa Ne abbiamo trovati Cinque Cinque diamanti vanno più che bene Nel frattempo siamo già a livello 19 Forza dell'Ambazzare Creeper vorrei ben vedere Quindi dicevo probabilmente questo episodio durerà leggermente più del normale Magari qualcosa come 15 minuti 20 minuti addirittura Perché in tanti come vi dicevo mi chiedete di portare degli episodi più lunghi in miniera Perché vi rilassano Almeno questo è quello che mi state dicendo voi Ti ho detto in tanti che andate a me rilassano gli episodi in miniera Ecco per fortuna che No 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 Oh mio dio Assolutamente no Tu cosa pensi di fare Tu non esplodi Quindi non ho paura di te stupido Ah vai nella lava Vai nella lava come un pollo Un altro Eh no Allora non va bene ragazzi Spiegatemi per favore cosa c'è che non va qua nel mio mondo Perché non può essere che si bughi così spesso Soprattutto che ci siano così tanti mostri E voglio proprio vedere cosa succede Ah e ora cosa Non la fate più la festa Non la fate più probabilmente la festa No appena metto le torce voi non potete più spawnare Quindi questa caverna diventa mia per sempre Me ne è in possesso Un pochettino di oro non guasta mai ragazzi L'oro ci potrebbe servire Perché ci potremmo fare le golden apple Possiamo fare le rotaie Sento dei mostri No forse è solo l'acqua Forse è solo l'acqua che mi sta cercando di fare paura Sento un ragno Però i ragni ragazzi non ti possono di certo uccidere con un colpo Quindi di quello siamo tranquilli Qua c'è un pipistrello che fa una paura veramente incredibile E dove siamo andati a spuntare Sbaglio o c'eravamo già qua Sì ma no ma questo l'abbiamo già visitato questa parte Allora no 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 Si torna indietro perché possiamo andare avanti Con la lava C'era appunto un cosino di lava dove ti potevi andare avanti tranquillamente Oh 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 cosa 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 Vedo nei miei occhi Diamanti Diamanti Sei Sette E basta No 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 c'è sicuramente un altro Non può essere due diamanti soltanto Uno No Vabbè non fa niente Intanto stiamo avendo abbastanza fortuna Devo dire la verità Con tutti questi diamanti E dove era appunto il coso di lava Se non sbaglio era là Prendiamoci anche questo Era qui se non sbaglio Il lago di lava Sì infatti era più o meno qua Quindi se continuiamo Forse riusciamo a trovare qualcosa di interessante Magari la caverna continua da qualche parte E tra l'altro si sta iniziando a rompere il piccone Io spero di avere Cioè che mi basti anche l'altro piccone Al massimo mi devo mettere a cucinare un pochettino di ferro Qui Oh 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 Ok Sì 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 La caverna continua sicuramente piena di mostri Oh no 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 È decisamente troppo piena di mostri È decisamente troppo Troppo Piena di mostri Che so tutti questi mostri qua Wow 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 E ci sono delle torce Quindi le ho messe io queste torce Quindi io qua ci sono stato Ma no Ma è semplicemente il piano di sopra Ma dai Ma non ci posso credere Sono stato trollato dalla mia stessa caverna Ma vi rendete conto E quel creeper vuole morire Un giorno ci morirai tu Ok per fortuna l'abbiamo ucciso Uccidiamo pure lui Piazziamo una torcia Nel frattempo Ok perfetto Quindi qua ci siamo già stati Giusto? Però abbiamo esplorato tutto Eh qua c'è un coso di lava Sarebbe bello se ogni Se dietro ogni blocco di redstone Ci fosse un diamante Però la maggior parte delle volte I diamanti si trovano proprio dietro la redstone Quindi continuiamo a prenderla noi Molto volentieri Nel frattempo siamo arrivati alla bellezza di 20 livelli Ottimo ragazzi Quindi pian piano ritorneremo ai nostri 40 livellozzi Dai dai dammelo un altro diamantino Ne voglio trovare tanti in questo episodio Tanti 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 Oh non ci posso credere L'abbiamo trovato Non ci posso credere Ma che fortuna Ma che fortuna Però di nuovo due Ma dai Ok perfetto Tre Ottimo dai 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 C'è un altro C'è un altro qua che si nasconde Sei timido per caso diamantino Fatti vedere Dai fatti vedere al tuo imperatore grandissimo Kendall Magno Il massimo di diamanti in un solo costo Se non sbaglio è Sei Non penso sia otto Otto mi sembra troppo Non mi sembra naturale Otto diamanti In una Cioè otto Una vena da otto diamanti Mi sembra decisamente troppo 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 Quindi non può essere Allora che dite Torniamo giù Mi sa che conviene tornare giù A questo punto Sì 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 Torniamo qua E continuiamo a scavare un pochettino Verso il nostro tunnel Sperando di trovare degli altri Ancora lava E qua addirittura la lava Cresce Quindi noi facciamo questo bel blocchetto Perfetto Così Ragazzi non so esattamente dove sto andando io Ovviamente sto andando alla ricerca di diamanti E di tantissimi livelli Come già li stiamo prendendo Però ovviamente Il piccone tra non molto si rompe Quindi vorremmo anche Essere sicuri di non restare bloccati qua in caverna Tra non molto mi sa che ci dovremo fermare Credo di aver spolpato completamente Tutta questa caverna Credo di aver preso Tutto quello che c'era al suo interno Ovviamente se continuo a scavare Posso trovare La qualunque Perché i diamanti Sappiamo bene tutti quanti Che sono praticamente infiniti Però allo stesso tempo Non posso mettermi a scavare Tutta una caverna intera Mi conviene piuttosto Trovarne una nuova E siamo già a 20 minuti di registrazione 20 minuti di registrazione 10 diamanti sono tanti eh Abbiamo trovato tanti diamanti Comunque in 20 minuti Quindi io continuerei un pochetto così Fino a quando non si rompe il piccone Poi possiamo anche tornare a casa Dai forza Speriamo che siano Se sono qua dietro ragazzi E mi si rompe il piccone Mi arrabbio tantissimo E tra non molto il piccone Se ne va Guardate guardate 3 2 1 Vai ancora un altro Ancora Ora sei rotto Ok perfetto Abbiamo perso il piccone Però abbiamo la bellezza di 61 di col Poi 59 Anzi no 2 stack di redstone 10 diamanti E 7 di oro E 1 stack intero Praticamente quasi Di ferro Cavolo 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 ragazzi Abbiamo fatto benissimo All'andare in questa caverna Io ora spero sinceramente Di non aver perso qualche diamante Perché magari non l'ho visto Con la coda dell'occhio O cose del genere Perché io so che voi siete Super attenti Per quanto riguarda diamanti Soprattutto nei miei video Ogni volta che ne perdo uno Mi dice sempre Candalo mio dio Torno in quella posizione Hai perso un diamante Vallo a prendere Quindi vi ringrazio Se me li segnalate Vi ringrazio per tutte le cose Che mi segnalate Perché sapete bene Che quando uno sta facendo un video Non sempre può essere super attento E bisogna uccidere anche tutti questi mostri Dicevo Non sempre può essere super attento A tutto quanto Penso che per questo episodio È tutto Perché abbiamo trovato Veramente tante robe Io tornerei Molto volentieri Al magazzino Perfetto Quindi così Non mi dovrebbero Non mi dovrebbe servire Un piccone E praticamente dovrei poter Tranquillamente uscire Senza dover rompere nulla Mori scheletro Mori Poteto muori E quindi ragazzi Abbiamo un bel bottino Abbiamo trovato veramente Un bottino succulento Tantissimi diamanti Tantissimi livelli Perché siamo passati Dal livello 15 Al Dove sono? Ho sbagliato strada Sono passato dal livello 15 Al livello 22 Quindi probabilmente Tra qualche altro episodio Riusciremo a tornare Al livello 30 Quindi ci incanteremo Anche un bellissimo Piccone in diamante Perché ce l'abbiamo già L'abbiamo creato Abbiamo sia la spagna in diamante Che il piccone in diamante Ok mettiamo i nostri diamantini qua Abbiamo ben 23 ragazzi 23 diamanti Sono tanti E voi state forse sottovalutando Anche se non è detto Cioè magari state dicendo Oh mio dio bravo Kendra Hai trovato 23 diamanti Ma io in testa mia Penso che mi state sottovalutando Sono tantissimi Sono un bel po' di diamanti E abbiamo trovato anche Tante altre cose Come per esempio Un arco Che beh Mettiamolo qua Tanto per Per adesso Non mi serve a nulla Mettiamo anche questa spada qua E il resto dei blocchi La si mette qua Ragazzi per questo episodio Della Candy Craft È tutto Non riesco ad aprire le port Ce la faccio Da Candy Craft è tutto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Consigliatemi qua sotto Nei commenti Cosa fare nel prossimo episodio Perché siete voi A mandare avanti questa serie Questa è la serie dell'iscritto Mi raccomando Un bel mi piace Seguitemi su Instagram Perché troverete il link Qua sotto nella descrizione Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video